Buongiorno amici di TV12, ben ritrovati nel primo appuntamento della nostra redazione con la rassegna stampa in questo venerdì 9 giugno, iniziamo prima ancora con le notizie che arrivano dall'ANSA poi vi dobbiamo dire una cosa molto importante, però giustamente partiamo proprio con le ultimissime ore soprattutto perché arrivano da oltreoceano e riguardano la situazione di Trump che è stato ufficialmente incriminato per la questione relativa ai documenti riservati questo è quanto viene battuto dall'ANSA nella giornata americana e quindi nella nottata italiana convocato in tribunale per martedì, si parla di un giorno buio per l'America è sceso in secondo piano, ma lo troveremo molto nel corso dei giornali nazionali l'Unione Europea che trova l'accordo sui migranti, l'Italia sarà decisiva è stata decisiva, intesa tra i 27 per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo qui abbiamo tutta la nostra edicola virtuale che adesso andremo a sfogliare insieme però prima facciamo una rapidissima incursione nel mondo dello sport una tematica che approfondiremo nel corso della nostra rassegna stampa insieme però questa notte, insomma, verso l'una è stato protagonista assoluto Simone Pafundi ci gustiamo per adesso soltanto il suo gol della vittoria 2-1 dell'Italia sulla Corea guardate il minuto, 86esimo e soprattutto guardate che bel gol ha fatto Simone Pafundi è entrato dalla panchina all'82esimo, ha deciso la partita con una punizione magistrale di sinistro che ha fatto scattare la gioia di tutta l'Italia Under 20 che quindi strappa il pass della finale proprio con il gol del numero 20 con il gol dell'attaccante 2006 dell'Udinese e adesso la finale sarà Italia-Uruguay davvero non vediamo l'ora di seguirla, bravissimo Simone che nonostante le recenti panchine con la nazionale ha segnato il gol decisivo adesso sì che ci spostiamo sulle prime pagine nazionali cominciamo dal Corriere della Sera che parla appunto dell'accordo nell'Unione Europea un nuovo patto su sbarchi e asilo, piante dosi, non saremo un centro di raccolta l'Italia comunque ha votato a favore e adesso vengono illustrati come cambiano tutti i rimpatri per questa novità. C'è poi la guerra con l'avanzata di Kiev per il contattacco di Gallarme per la centrale di Zappozizia che vediamo appunto dopo essere stata colpita ha inondato alcune città e soprattutto ha fatto sfociare, ha fatto uscire dai suoi argini il Dnipro, davvero situazioni molto molto delicate con la guerra tra Russia e Ucraina che continua purtroppo in maniera imperterrita. Poi la Repubblica che parla invece della Meloni con i dati dell'osservatorio di Pavia, Meloni occupa ITG, il governo di destra e la maggioranza dopo otto mesi hanno preso il 70% degli spazi dell'informazione politica RAI all'uvione il ministro Musumeci boccia Bonacini, pensi alla Regione, la Corte dei Conti dice i controlli sul PNRR rimangono, poi si torna appunto sull'accordo sul patto UE sui migranti l'Italia non vota con Orban, questo quanto viene riepilogato ancora poi guerra con immagini sempre molto molto crude, soprattutto anche condizionate dall'acqua in questo caso, i russi sparano sui soccorsi di Kherson, colpi di mortaio contro i sopravvissuti al disastro della DIGA che sicuramente è chiaro che sconvolge un po' l'opinione pubblica, però si sa sono immagini di guerra, immagini molto crude di una persona disabile che viene portata in salvo nei soccorsi a Kherson che però sono stati comunque oggetto di bombardamento da parte della Russia. Ci spostiamo sul manifesto che parla proprio di queste due situazioni, innanzitutto in taglio alto, Mosca che bombarda i soccorsi a Kherson, reportage dalla città ucraina sepolta dall'acqua e oltretutto in difficoltà proprio per questo assedio da parte della Russia. c'è poi la fortezza dei deboli, la fortezza coi deboli, niente ricollocamenti obbligatori ma chi non prende la sua quota di migranti dovrà pagare 20.000 euro l'uno, gli altri trasferiti nell'ultimo luogo di transito fuori UE è il nuovo patto per l'immigrazione approvato dai 27 e nel frattempo si incrina l'asse tra Italia, Ungheria e Polonia, questo approfondimento con un'altra immagine più che mai eloquente di un barcone di migranti. Ancora proseguiamo il nostro percorso sulle prime pagine nazionali con il foglio che come al solito sceglie la sua impaginazione senza immagini, senza foto, si parla dell'apocalisse del gender. Occhio, siamo arrivati al limite dei diritti soggettivi perché trasformare la gestazione per altri della scelta del gender in diritto assoluto della persona non sarà facile anche per il pensiero femminista. Un'indagine oltre i Pride, questo nell'articolo di Giuliano Ferrara che è un po' l'articolo centrale del foglio che parla appunto di questa situazione. Ancora continuiamo con la verità, la verità che apre con Leonardo addato ad Alema dei documenti classificati, rivelazioni clamorose sul traffico di armi con la Colombia, nell'audit interno dell'azienda la contestazione è rivolta ai vertici, hanno messo a disposizione dell'ex premier carte con segreti commerciali omettendo informazioni sui discussi mediatori scelti da Baffino per l'affare, questo nel pezzo a firma di Giacomo Amadori su queste clamorose rivelazioni. C'è poi una foto con Mentana, noi parliamo ancora di Bibiano e di chi mistifica sulla pelle dei bimbi. Qui c'è poi anche il caso espresso con la RAI che si tiene da Milano malgrado le balle russe sulla Lega, ancora quindi tiene banco molto la questione televisiva sulla verità. Libero che parla invece di scherzi da giudici, i blocca Italia, questo è il titolo scelto da Libero. La Corte dei Conti sfida il governo sul PNRR, i nostri controlli in corso d'opera restano, intanto l'ANAC va all'assalto del ponte, ma Salvini tuona, nessuno si permetta di fermarci per la partenza dei lavori del famigerato, ovviamente ponte sullo stretto. La Osannava ora la bastona, Schlein mollata perfino da Concita, questo Concita De Gregorio che appunto lascia quello che riguarda il sostenere a Elie Schlein. Si parla poi anche dei lavoratori del turismo per i quali arriverà il bonus estate, integrativi fino al 15% per tutta la stagione, sicuramente una notizia che può far sorridere i lavoratori stagionali, i lavoratori del turismo in particolare in estate. Il Gazzettino, facciamo un'incursione nel nord-est, migranti, il nuovo piano dell'Unione europea, tutti i paesi responsabili di chi è soccorso, il Sì dell'Italia accolte le nostre richieste. Meloni riceve Scholz intesa sul patto di stabilità, non si torna all'austerità, questo è il messaggio che vuole dare il governo Meloni per quanto riguarda la situazione che avevamo aperto con la questione dei migranti. Poi si parla di Udine, caccia all'arma nel rio Manganizza, omicidio Tulissi, nuova pista, indagato il lupo solitario, questo appunto è quanti sono gli ultimi aggiornamenti su una delle situazioni più calde e spinose di questo periodo recente. Il giornale, torniamo sulle pagine nazionali a più ampio respiro, con ancora la questione dei migranti, perché c'è stato il Consiglio dell'Unione europea, l'Italia non molla, svolta sui migranti, primo accordo dopo un vertice fiume, piante dosi, un inizio, non saremo più un punto di raccolta per tutto il continente, questo è quanto stabilisce questa nuova svolta sui migranti. Francia, Roma aveva dato asilo all'assalitore di bimbi, questo anche ancora un altro fronte della questione che viene approfondito da Il Giornale, che poi riprende le parole del Ministro Salvini, che dice, cantieri aperti, nell'estate del 2024 sarà il ponte più studiato al mondo, come dicevamo in precedenza, insomma Salvini che difende a spada tratta quella che è la sua iniziativa, quella che è stata una delle sue maggiori vittorie politiche di avere l'ok per la costruzione del ponte, che ovviamente ha anche tutte le sue difficoltà e lo sta riscontrando sulla sua pelle. La stampa parla sempre dell'accordo sui migranti da parte dell'Unione europea, Meloni rompe con Orban, solo tre mesi per dare asilo, piante dosi, ribadisce, lo abbiamo letto, ma lo ripetiamo ancora noi, non saremo il campo profughi d'Europa, ha detto questo, Polonia e Ungheria contrarie, ma l'Italia vota sì, Scholz alla Premier, non vi lasciamo soli, quindi una scelta forte da parte dell'Italia che va sicuramente a inclinare anche un po' i rapporti, come leggevamo prima, con Polonia e Ungheria, ma che è nella forza di certo altri. Allarmi alla centrale nucleare in Ucraina, con la controoffensiva di Zelensky, riprendiamoci tutto, quindi un'Ucraina che sicuramente non vuole restare a guardare di fronte ai ripetuti e reiterati attacchi della Russia. Vediamo la fotonotizia, l'attacco ai bambini, Annesì, rifugiato a coltella a quattro piccoli al parco giochi, vi uccido in nome di Dio. Che cosa passa per la testa di un essere umano che tira fuori il coltello e colpisce un piccolo di appena 22 mesi? Un punto interrogativo che probabilmente non ha risposta davvero in nessun motivo e in nessun modo, ma questo è successo. Il Fatto Quotidiano parla del ponte, sul ponte è un regalo ai privati, dice Busia dell'anticorruzione, intervista presidente dell'ANAC proprio al Fatto Quotidiano, PNRR, errore, abolire i controlli, e non abolite le gare, vantaggi a WeBuild and Company nella causa allo Stato, la norma anticorte dei conti indebolice la pubblica amministrazione e l'abuso d'ufficio va lasciato, non abrogato. Questi alcuni concetti dell'intervista che poi tocca anche altri punti che qui andiamo a vedere, insomma una bella intervista che può fare approfondire la situazione e poi anche si parla sempre di Kiev, del conflitto tra Russia e Ucraina, se Kiev entra nella NATO siamo in guerra, pure noi, il direttore di Lim ha detto, diga vantaggio ucraino, questo sempre per quanto sta succedendo sul fronte più caldo d'Europa dove continua a esserci conflitto. Sono le 24 ore per chiudere le prime pagine dei quotidiani nazionali, un po' di economia e finanza, smart working e contratti a termine, così il Senato riscriverà il decreto lavoro, ulteriori riforme, ci sarà un bonus estivo per il lavoro notturno e straordinario del personale del turismo, rapporto Excelsior, corrono le assunzioni a tempo indeterminato, questa sicuramente può essere una buona notizia per i lavoratori, e poi Africa, c'è un piano per ricostruire 123 metropoli e in campo arriveranno la bellezza di 150 miliardi di dollari. La foto riguarda l'Egitto con l'osservatorio astronomico posto a fianco della famosissima biblioteca di Alessandria, questo per quanto riguarda le prime pagine nazionali che andiamo a chiudere per volare sul Messaggero Veneto, quindi questioni più di casa nostra, Messaggero Veneto, edizione di Udine, che parla invece come notizia principale della scuola. Arriva la riforma dei docenti tutor, in 920 candidati aiuteranno gli studenti a scegliere i percorsi formativi ed entreranno in servizio già da settembre, questa è la novità che riguarda il panorama scolastico nella regione, poi ancora le indagini sull'uccisione di Tatiana Tulissi, dopo 14 anni si cerca la pistola in un canale a Manzano. Gli inquirenti sono tornati nella villa di Paolo Calligari, San Manzano, dove la sua allora compagna Tatiana Tulissi fu uccisa da tre colpi di pistola l'11 novembre del 2008, lo hanno fatto e continueranno a farlo seguendo un caledario condizionato dalle bizze del tempo per riprendere le ricerche dell'arma. Del delitto ancora in taglio alto, il rilancio dei centri storici, 20 distretti del commercio, ancora poi a proposito di commercio e di economia, in nord che traina la crescita economica, il pilla più 1,2 in Friuli Venezia Giulia, queste notizie sicuramente rincuoranti, c'è spazio anche per quanto riguarda in spalla l'incontro a Roma, i nodi del governo, le prove d'intesa Meloni-Scholz, è il momento di cooperare, ancora una sanità invece da rifondare per quanto riguarda il centro-sinistra, Morettuzzo apre, l'analisi è giusta, noi ci stiamo. Poi anche da stasera a Udine, notte dei lettori, nel segno di Italo, Calvino che inizierà addirittura oggi dalle 16 e 30, decima edizione della notte dei lettori. Spalla ancora, piazza, c'è sfuggita la pagina ma la ripeschiamo subito, eccola qua, cronache, piazza pedonale, sì delle scuole, negozianti scettici. C'è poi invece la notizia della morte dell'operaio Zoppo presidio davanti alla fabbrica. A tal proposito, visto che c'eravamo durante il sit-in fuori dalla Fantoni, la nostra Alice Matteloni ha anche intercettato uno dei protagonisti del sindacato per chiedere proprio quali saranno le conseguenze di questa ennesima morte sul lavoro. Quest'oggi sit-in organizzato da Fincams CGL, ma non solo, è stato anche un momento di confronto fra voi, che cosa è emerso? È emerso che la salute e la sicurezza, soprattutto nel settore degli appalti, che è un settore molto precario, deve essere assolutamente al primo posto nel mondo del lavoro. Non dobbiamo dimenticarci tutte le morti sul lavoro che sono assolutamente inaccettabili, non solo ieri, ma ovunque. Solo ieri ci sono stati due morti in Italia, qua mi pare nella regione Lombardia, ed è veramente un dato inaccettabile e per questo noi dobbiamo puntare sulla salute e sulla sicurezza. Ecco, è stato evidenziato come a livello proporzionale la maggior parte delle morti, per quanto riguardi le morti sul lavoro, riguarda degli appalti esterni. Cosa si può fare da questo punto di vista? Quali sono appunto le misure da attuare? Certo, bisogna fare un grandissimo discorso sugli appalti, perché purtroppo sappiamo bene che le terzializzazioni portano precarietà non solo nel lavoro, ma anche nella salute e nella sicurezza. Quello che dobbiamo fare noi è coinvolgere sempre più le aziende, non solo le aziende che prendono gli appalti, ma anche le aziende appaltanti, perché ad esempio per poter fare dei corsi di formazione assieme, per cercare quindi di coinvolgere tutti i lavoratori, non solo degli appalti, ma anche delle aziende principali, chiamiamole così, in un sistema unico per cercare di responsabilizzare tutti e avere una linea guida unica per tutti i lavoratori. Tornando al tragico evento della giornata di ieri, quest'oggi la procura di Udine ha aperto un fascicolo, ovviamente in attesa dell'acquisizione di atti e documenti per capire poi se appunto si tratterà di un fascicolo a causa di ignoti, oppure appunto per capire chi verrà iscritto nella lista degli indagati. Ideal Service si è dichiarata assolutamente collaborativa da questo punto di vista, anche per capire quali sono state poi le dinamiche dell'incidente. Questo è vero, infatti domani mattina avremo già un incontro con Ideal Service per capire per ora quanto è successo, cosa si può fare anche in prospettiva futura e avere il maggior numero di informazioni possibile. Posso confermare che appunto abbiamo sentito, è da ieri sera che sentiamo Ideal Service continuamente e hanno confermato la loro disponibilità ad avere un confronto continuo con noi sindacati. Usciamo da questa intervista, sicuramente molto interessante, per continuare sul Messaggero Veneto. Domani apre la strada sull'Ussari, ci sono tutte le regole per gestire la salita. Si parla anche di sport, lo approfondiremo poi con il day after della PU dopo l'eliminazione. Ecco come ripartirà la squadra. Ci spostiamo sempre sul Messaggero Veneto, ma edizione di Pordenone, per vedere un po' le notizie riguardanti il Pordenonese. La notizia principale è la stessa, chiaramente della scuola in Friuli Venezia Giulia. Poi invece la fotonotizia riguarda un traffico insostenibile sulla Pontebana. I comuni concordano, c'è bisogno di un'alternativa e anche diciamo in breve termine. Ancora la regione che parla della sanità, invece la partnership, il Tempio della Pizza affida a Roncadin la sua margherita. Le cronache dal Pordenonese parlano di due giovani feriti in uno scontro frontale, uno in gravi condizioni e poi ancora, una notizia che abbiamo approfondito nel Tg ieri, seguita all'uscita dal lavoro e aggredita. Un arresto per violenza, sempre per quanto riguarda la città di Pordenone in questo caso ancora. Regione, piccolo, edizione di Trieste che apre con Varsila che chiede l'avvio della cassa integrazione, questo si dice. Sulla notizia principale del piccolo, poi c'è anche le lezioni di scuola guida sul tram, ancora in taglio alto si va sull'Ucraina, sul fronte con iniziata la controoffensiva e gli attacchi a Zaporizia. Poi il reportage Francia, Aurora al parco giochi accoltellati, bimbi e adulti. Poi patto in Europa sui migranti, l'Italia vota sì, Orban contrario, questo per quanto riguarda le notizie dal mondo. E poi ancora invece sul fronte di Trieste, bus da domenica all'orario estivo, rinforzate le linee verso il mare, Sistiana inizia la stagione a Castelreggio, servizi in spiaggia senza rincari. Una notizia per quanto riguarda il turismo anche. E poi le culture, si tocca a noi punire i captivi e Bollani, la mia tv, si ispira a Daniele Luttazzi. Usciamo dal piccolo di Trieste per andare sul piccolo di Gorizia. Vediamo quali sono invece le notizie dal Goriziano. Eccoci qua con Canale Valentinis, il trasloco dei rimorchiatori, si lavora l'attracco sulla banchina antistante A2A, progetto da 554 mila euro che agevolerà i diportisti sul canale, appunto per quanto riguarda Monfalcone e i piani dell'autorità portuale. Incendi in Carso, a lezione dai pompieri, questa è un'altra iniziativa molto molto importante per sensibilizzare contro la lotta, gli incendi, prevenzione anche proprio lo spegnimento degli stessi. Commercio risontino, via i distretti coinvolte 3 mila ditte, poi dalle radiografie alle risonanze tutte le novità appunto del nuovo ambulatorio, questo sul piccolo di Gorizia, che poi in taglio basso parla di due storie, gli orti urbani dell'inclusione e anche di un divorzio calcistico con Grado che si separa da Aquileia, quindi fonderanno probabilmente due realtà sportive calcistiche a sé stanti. Fra poco parleremo di sport, prima ci spostiamo di nuovo sul Messaggero Veneto per vedere l'inserto relativo alla città di Udine che parla di politica. PD e lista De Toni hanno deciso, sono sei a lasciare il posto da consiglieri, ricopreranno soltanto il ruolo di assessori. Lunedì il primo cambio, Zini darà spazio in aula a Colauti, poi nelle foto viene riepilogato tutti quelli che saranno i volti della nuova giunta, qui con i cambi che arriveranno nel breve. Poi ancora, come si leggeva dalla prima pagina, a Piazza Garibaldi pedonale, la preside è favorevole, i negozianti sono scettici, confcommercio, serve un confronto. L'assessore lo faremo, mentre la dirigente della Manzoni, Rosario Alfè, parla di un'area che diventerebbe sicura e anche proprio di un'opportunità, quindi sicuramente le reazioni opposte per questa scelta su Piazza Garibaldi per quanto riguarda Udine, ancora, velocemente leggiamo qualche notizia, spari contro la casa del rivale a Baldasseria Media, condannato a un anno e dieci mesi. L'uomo aveva poi minacciato il compagno della ex, recapitandogli dei proiettili colpevoli, anche il fratello e altri due rom parteciparono al successivo pestaggio, questo per quanto riguarda la cronaca in Baldasseria Media. Infine, il Festival dell'Università, si parla di tematiche sicuramente più leggere, la cultura motore dell'economia tra vecchie e nuove tecnologie. Il tema è stato affrontato nella serata inaugurale di collegamenti, evento promosso dall'Ateneo, questo appunto per anche un po' chiudere la nostra pagina della cronaca, andare a cominciare a tuffarci in quella dello sport, che riapriamo comunque dai ragazzi dell'Italia under 20, sebbene come potete vedere dalle prime pagine non trovano tantissimo spazio, non per quanto sia stata piccola la loro impresa, ma forse anche per questioni di orario, si è giocato alle 23 di ieri Italia-Corea del Sud 2-1, andiamo a vedere insieme le immagini della partita, perché vi abbiamo fatto vedere in apertura doverosamente il gol di Pafundi, vediamo tutte le emozioni della partita, a cominciare dal gol di Casadei, con questo bel gol da parte di Casadei, che abbiamo perso il conto, dovrebbe essere il settimo della sua competizione, forse l'ottavo, ma fatto sta che Casadei sta diventando protagonista assoluto di questa competizione, il centrocampista insomma ricorderete essere stato comprato dal Chelsea, o meglio dall'Inter, lo comprò il Chelsea per una cifra astronomica di quasi 15 milioni di euro per un giovanissimo Casadei che si sta prendendo invece il palcoscenico. Poi un rigore per la Corea, tutto nel primo tempo, fallo ravvisato con il VAR e lì dal dischetto intuisce De Planchi, ma comunque non riesce ad arrivare all'incrocio dei pali, pareggio della Corea per una partita che poi insomma si mantiene su questi binari, vi ricordo, all'ottantaduesimo entra Pafundi e all'ottantaseiesimo questo è il suo gioiello, una punizione che potrebbe scomodare Paragoni, Irriverenti non lo faremo, però è una punizione stilisticamente perfetta, si abbracciano in panchina anche Baldanzi che aveva lasciato proprio il posto a Pafundi, due talenti maggiori di questa nazionale Baldanzi dell'Empoli e Pafundi dell'Udinese con tre anni di differenza, la grande esultanza di Simone e ripetiamo, un appuntamento storico per l'Italia Under 20 che in finale affronterà l'Uruguay che nell'altra semifinale aveva interrotto il sogno di Israele vincendo 1-0 e adesso sì possiamo andare sulla gazzetta dello Sport dove giustamente, ripeto, non troveremo riflessi e immagini della vittoria dell'Italia ma domani c'è la finale di Champions, Zhang la mia Inter ci crede, ha parlato il presidente alla gazzetta, pronti, uniti con la serenità di Inzaghi perché il sogno non è impossibile. Da Suarez a Brozo a Istanbul sulle orme del passato, questa è l'analisi di Luigi Garlando. Calcio italiano, dice Sebastiano Vernazza, comunque vada sarà da applausi, ovvio che se dovesse perdere l'Inter l'Italia porterebbe a casa 1-0 su 3 sulle finali europee ma ci sentiamo di condividere l'analisi di Vernazza effettivamente, comunque sarebbe una stagione d'applausi perché tre finali non è da poco. A tu per tu De Bruyne nel City, amico Lukaku, qui non si scherza, è uno dei giocatori più temuti sicuramente della squadra di Manchester. Poi Mercato, Milan, affari in USA, Pulisic prepara lo sconto, Stadio San Donato sarà così, quindi un Milan che si avvicina al gioiello del Chelsea. Eccolo qua, ovviamente lo spazio c'è per il Mondiale Under 20, forse un po' ridotto ma capiamo che c'è la finale di Champions. Magia di Pafundi, Italia in finale, bravissimo davvero Simone, lo ripetiamo, vi abbiamo fatto vedere in tutte le salse il suo gol e continueremo a proporvelo perché se lo merita. E poi dottor Antenucci, il rigore è giusto, Cagliari-Bari 1 a 1. Andiamo a vedere anche le immagini di Cagliari-Bari perché si sta decidendo l'ultima squadra che andrà in Serie A con il Cagliari che parte benissimo, è andata che si gioca in casa dei Sardi con tanto per cambiare, il gol di Gianluca, la Padula su questo cross di Mancuso, il colpo di testa incrociare che batte il portiere del Bari Caprile, gol davvero bellissimo di la Padula, poi 39esimo, calcio di vigore per questo fallo di mano per il Bari, va Kedira, grande parata di Radunovic che poi è altrettanto bravo a rialzarsi, a schiaffeggiare via il pallone dal tentativo di tapin dell'attaccante Marocchino per la disperazione della panchina del Bari che continua ad attaccare, non è proprio la serata di Kedira, qui si fa murare di nuovo da Radunovic due volte, bravissimo il portiere dei Sardi che sembra davvero insuperabile, alla fine verrà superato perché al 94esimo ingenuità del difensore del Cagliari che tocca Foloruscio, l'ex del Cordenone lo anticipa, Altare lo tocca, il VAR interviene perché l'arbitro inizialmente aveva lasciato proseguire, questa volta dal discreto ci va Antenucci che con tutta la sua esperienza manda il portiere da una parte, il pallone dall'altra per la gioia di Mignani nel finale tra l'altro il Cagliari che sfiora addirittura il 2-1 con questo colpo di testa ma non arriva il gol, rimane il pareggio, ritorno domenica al San Nicola di Bari con il Bari che chiaramente ha anche il vantaggio della posizione in classifica ma soprattutto ha il vantaggio di giocare di fronte ai 50.000 errotti del San Nicola. Corriere dello Sport, si parla di mal di fede, la Juve del Max Ter è il momento delle scelte, si annuncia un caso, Chiesa insoddisfatto entra a sorpresa nella lista dei cedibili, questo per quanto riguarda la situazione in casa Juventus, la punta non si sente più al centro del progetto di Allegri, Ken lascia l'Under 21, assenza di motivazioni, lui risponde, sono solo fake news, probabilmente anche vero. Champions, lo studio tattico, Inter si vince in 10 metri, domani la finale col City, decisivo e il poco spazio a disposizione di Dzeko e Lautaro, l'analisi delle rose, una è costata 924 milioni chiaramente il Manchester e l'altra 240, quindi questo fa capire quanto sarebbe un'impresa per l'Inter vincere sabato. Fiorentina c'è il vertice con Italiano e De Laurenti si aspetta alla finestra perché Italiano potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli. Il Milan tenta un blitz per Ndika che però fa le visite mediche con la Roma, il difensore sarà nella capitale la prossima settimana volpato verso il Sassuolo e quindi vedremo se arriverà questo acquisto. Occhio anche alla finale scudetto del basket, Milano Virtus, scudetto per due, ormai una finale che sta diventando una classica e poi anche finalmente Jacobs a me i 100. Fotonotizia che ci fa tornare sulla partita di Cagliari, la padula gol, portiere un muro fino al rigore di Antenucci, pari al 96esimo. Cosa ha mangiato Boris? Si chiede Ivan Zazzaroni. Chiudiamo la parentesi relativa a Cagliari-Bari, sentendo anche le reazioni post partita di alcuni dei protagonisti, dell'allenatore del Bari-Mignani, dell'allenatore del Cagliari-Ranieri e anche proprio di Gianluca la padula. Non lo so, non so se è stato il Bari più bello, queste sono partite delicate, tirate, equilibrate. l'unica cosa che posso fare, mi tocca ripetere e fare i complimenti a questi ragazzi che dall'inizio dell'anno stanno dando continuità di atteggiamento, di prestazione. È la cosa più importante, è la cosa più bella che inorgoglisce un allenatore come me. Anche questa partita non hanno mai mollato, hanno sofferto quando ce la soffrirono, hanno stretto i denti, hanno corso e alla fine credo che il pareggio sia meritato. Peccato, peccato perché vincere la prima voleva dire tante cose. Non ci siamo riusciti, adesso innanzitutto facciamo i complimenti al Bari perché meritatamente ha pareggiato, ha fatto passare la sfuriata nostra iniziale dove abbiamo fatto gol, dove li stavamo mettendo alle corde, non siamo riusciti a raddoppiare, piano piano loro sono venuti fuori, Radunovic ha fatto una gran parata sul calcio di rigore e nel secondo tempo invece, come ho detto, hanno meritato più loro. Per cui adesso abbiamo soltanto un risultato come avevamo prima e c'è una partita sola, per cui non alzo bandiera bianca. Secondo me sì, siamo partiti molto bene, poi il Bari è riuscito a pareggiare all'ultimo, secondo me è stata una bella partita, devo dire che abbiamo 90 minuti che ci permettono di raggiungere il nostro obiettivo, è tutto apertissimo, quindi testa a Bari. Testa a Bari, Bari che invece vorrà andare su, poi ci sarà il problema da risolvere della doppia proprietà perché il Bari è appunto di De Laurentiis. Tutto sport, Juve Milik, sconto o via, ore decisive per l'attaccante polacco, riscatto dal Marsiglia fissato a 7 milioni, si punta a ottenere condizioni migliori o un altro prestito. C'è poi anche l'intervista al Barone Franco Causio, gli Juventini veri si vedono adesso in questo momento di parecchia difficoltà sotto tutti i punti di vista. Vlasic, il Toro alza l'offerta, riscatto, domani scade il termine con il West Ham, tra l'altro fresco vincitore della conference, 9 milioni più bonus anziché i 13, pattuiti, il Croato fa pressioni per rimanere Granata mentre c'è stallo su Miranciuk. Operazione City, Inter a Istanbul, ma il New York Times affonda Zhang. Ancora tifosi West Ham nel mirino, Biraghi ferito, furia viola, l'UEFA ora intervenga, ci immaginiamo che dovrà farlo, ovvio che non con un cambiamento del risultato come forse potrebbe anche essere giusto, ma ci vuole una mano pesante da parte dell'UEFA perché queste cose non si possono vedere in una finale, come vedete Biraghi insanguinato, colpito presumibilmente da un accendino. Occhio a Turam, figlio d'arte Marcos, Milan sfida la Roma per Dica, quindi un Milan che punta anche sull'attaccante del Mönchengladbach, finale di andata di B, pari e tensioni, il Cagliari adesso per la Serie A deve, imperativo, vincere a Bari, poi si ricorda la finale di basket a 1 Milano Virtus, parla Bezzecchi, Romagna vinco per te, la moto al Mugello e stasera a Parigi, Marcel Jacobs rieccomi, sono pronto a sfidare i top, parliamo chiaramente anche di Udinese e di Sport regionale più vicino a noi, con il Gazzettino, con l'intervista a Galparoli che promuove la stagione bianconera, l'ex terzino dice bene così, peccato per l'Europa mancata, ci avevo creduto, i 30 anni in Serie A però sono il traguardo più grande, dice Galparoli, che poi si parla di mercato, Dacca dell'Ester è un nome caldo sui tacquini, c'è anche poi questa idea che rimbalza dalla Francia di Balzaretti, qualora non dovesse rinnovare Marino, Bomber Petagna che torna di moda, ma questa è anche una situazione che ci troviamo a commentare praticamente a ogni mercato, vedremo se sarà vero o no, e poi lo stacanovista Silvestri che ha giocato 39 partite su 40 e che come ha detto ai nostri microfoni si gode la sua buona stagione, il suo record di clean sheet, ricordiamone ha fatti 10 quest'anno come non aveva mai fatto né in Italia né in Inghilterra, quindi bravo Marco e speriamo che l'anno prossimo possa farne ancora di più. Pedone, parliamo di basket chiaramente qui, è oggi a Finetti, Brisco già tagliato, questo è quanto emerso dalla nostra intervista a caldo subito dopo la sconfitta in gara 3, riprese le parole dal Gazzettino, il presidente dopo l'eliminazione ha detto appunto ai nostri microfoni, riflettiamo perché non è tutto da buttare, bravo il coach che ha avuto il coraggio, ovviamente gli attributi ha detto Pedone di tenere in panchina, uno scioperante in riferimento a Isaia Brisco che insomma è facile immaginare non a Udine il prossimo anno dopo questa stagione sicuramente molto molto brutta. Di Udinese e di Apu parliamo anche tramite le pagine del Messaggero Veneto. Udinese, Perez, il jolly da non perdere con la partenza di Becao, la conferma dell'argentino diventa fondamentale per non stravolgere la difesa, giocherebbe sul centrodestra e sarebbe anche il vice di Biol, giusta l'analisi perché centrodestra è il suo ruolo preferito, lo ha detto, ha più riprese e poi al centro contro la Juve, qualora dovesse mancare Biol, ha fatto vedere di essere prontissimo. Capitolo di S, Balzaretti se non resta Marino, è una notizia riportata anche dal Messaggero Veneto, poi ancora il terzetto a Banqua, Cocetta, Gessand, quando una singola partita può valere la conferma. I tre giovani difensori in campo dell'ultima gara contro la Juventus saranno nel gruppo di Sottil per l'inizio del prossimo ritiro estivo a Banqua e Gessand che comunque ricordiamo arrivati con i grismi dei giovani di talento da scoprire che sicuramente potranno essere pedine fondamentali anche per la prossima stagione, nella foto però non c'è Gessand, c'è Buta, ma al di là di questo piccolo errore di impaginazione ci può stare. Ancora andiamo avanti proprio con l'APU che sarà, riparte da tre, i tre capisaldi sono Monaldi, Palumbo e Gaspardo, sono loro che hanno il contratto sicuro, assicurato, proposta di rinnovo per Esposito e direi ottima idea e anche per Gentile ci sarà l'ultima cena a Udine, poi il rompete le righe, la cena si terrà alle 20 al pizzicotto di Tavagnacco nonostante la fine amara comunque si vorrà stare insieme prima di rompere le righe. Anche noi prima di rompere le righe della rassegna, anzi no, continuiamo a leggere perché se no rischiamo di sforare, quindi continuiamo a leggere le notizie sulla principale delusione, vedremo se ci sarà o no alla cena dell'APU, visto che non è finita benissimo con la sua eliminazione. Brisco, l'attesa, il talento, quel finale davvero inglorioso. Arrivato a fine estate dopo un lungo tiro in molla, l'ala ha alternato grandi giocate, infortuni, impegno ondivago con quel gran rifiuto nel derby, ovviamente rifiuto di salutare alcuni giocatori di Cividale, ma poi soprattutto con la scelta pesante, forte di Finetti di escluderlo. Nel terzo quarto di gara tre, applaudita dal presidente Pedone, immaginiamo anche simbolicamente anche da tutto il tifo APU. Siamo arrivati in chiusura della nostra rassegna stampa, ma prima ricordiamo la programmazione della giornata di oggi con il TG che torna come al solito alle 12, pomeriggio calcio alle 15 e ancora TG News in diretta alle 16, così come alle 19, si parte come al solito con lo sport e alle 19 e 15 TG News 24, poi serata come al solito molto molto intensa, 20 e 30 cartellino giallo con Tommaso Cerno e poi alle 21 e 15, da non perdere come al solito ogni venerdì, l'appuntamento con Fair Play condotto da Francesco Pezzella. È davvero tutto per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, vi invito a restare sempre in nostra compagnia, ma prima di lasciarci le previsioni del meteo. Amici di TV12, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo ancora a tratti instabile sul Friuli Venezia Giulia e specie nella seconda parte del giorno, con possibili temporali, in particolar modo sui rilievi. Vediamo ora nel dettaglio Pordenone-Udine, un avvio di giornata con nuvolosità irregolare e nella seconda parte del giorno, con possibili fenomeni associati anche a carattere temporalesco, in particolar modo sui rilievi, ma verso sera potranno anche sconfinare sulle zone di pianura. Temperature massime senza particolari variazioni con punte di 28-29 gradi. Situazione pressoché analoga anche su Gorizia e Trieste, sole prevalente al mattino, nella seconda parte del giorno invece qualche possibile isolato fenomeno. Temperature massime comprese tra i 26 e i 28 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.